Questa vetrina mondiale sta già portando una grande attenzione di turismo, di uomini, donne, tanti da tutte le parti del mondo che vedono il nostro Abruzzo, ne scoprono le bellezze e chiedono come poterne godere, quando venire, dove trovare alloggio. Io credo che questa sia un'occasione davvero unica, per certi versi irripetibile, per mostrare il meglio di noi stessi a tutto il mondo e io spero, e là stiamo lavorando per questo, per far trovare a tutto il mondo un Abruzzo sempre più accogliente e capace di offrire le proprie bellezze, i propri prodotti, la propria ospitalità per fare crescere la capacità turistica del nostro territorio che è sempre stata poco valorizzata e fatta conoscere poco in tutto il mondo. Un'operazione di promozione in grande stile, uno dei suoi obiettivi quattro anni fa, riportare la partenza al Giro d'Italia in Abruzzo, ci è riuscito dopo 22 anni, quindi tornerà a partire il Giro d'Italia dall'Abruzzo, da Fossa Cesia. Il territorio lo vede pronto a livello anche imprenditoriale? Guardi, pronto o non pronto, queste occasioni stimolano la crescita, magari se qualcuno è rimasto indietro, forse c'è anche chi non ha coltivato la fiducia e la speranza di poter avere occasioni importanti come questa, perché non c'erano, perché nessuno le aveva magari portate o create. Io credo che il mio compito, il compito dell'istituzione, sia quello anche di creare le opportunità, di creare le condizioni, poi non siamo noi naturalmente a gestire alberghi, ad aprire bed and breakfast o ristoranti o resort, questo tocca principalmente poi all'impresa privata, ma l'impresa privata deve sapere, deve sentire che ci sono istituzioni capaci di progettare, di programmare, di creare le opportunità, di creare l'interesse che poi porta appunto quelle strutture a raccogliere, a sviluppare il seme che è stato gettato. Da questo punto di vista io credo davvero che noi abbiamo dato una svolta importante, anche perché questo Giro d'Italia non è solo un episodio, insomma da questi anni abbiamo creato diverse occasioni, a cominciare appunto da un rapporto diverso con il Giro che ha portato a questo riconoscimento, non per caso RCS sceglie l'Abruzzo come grande partenza, potete immaginare che ogni anno sono tante le regioni e anche nazioni intere in giro per il mondo che chiedono al Giro d'Italia di partire dal loro territorio, abbiamo evidentemente presentato un progetto convincente anche sotto il profilo sportivo, oltre che promozionale, al gruppo RCS che ha quindi poi scelto e onorato la nostra regione di questa partenza, ma tra meno di un mese ci sarà Pescara, a pochi chilometri da qui, Cartoons on the Bay, la nuova edizione di questa fiera del fiera mercato del cinema crossmediale, del cinema d'animazione crossmediale che oggi è la principale fonte che sostiene l'industria cinematografica mondiale, fatturato di miliardi di euro in tutto il mondo, troveranno in Pescara un epicentro della propria attività e ci saranno anteprime mondiali come è accaduto già lo scorso anno con Jurassic World, premi Oscar del cinema d'animazione, fumettisti di fama mondiale premiati in tutto il mondo, saranno presenti a Pescara, sarà un'altra grande occasione per portare migliaia di operatori di tutto il mondo nel nostro territorio abruzzese e così via. Non parliamo di altro grande evento legato al tema dello sport, il ritiro del Napoli Calcio che qualche stupido continua a polemizzare sta portando l'attenzione di milioni di tifosi del Napoli sul territorio abruzzese e il ritiro che si annuncia quest'anno con i campioni d'Italia, con lo scudetto sul petto, sarà un altro momento di festa importante che porterà decine di migliaia di turisti a voler vedere quella squadra sul territorio dell'Abruzzo.